La scorsa stagione sono stati monitorati 30 nidi di tartarughe e anche quest'anno si dà il via alla individuazione messa in sicurezza dei nidi. A farlo sapere è Nicola Campomorto, attivista EMPA. Le attività di volontariato, spiega Nicola, si svolgeranno in più fasi della giornata, partendo dal mattino per poi percorrere a piedi dei piccoli tratti di costa teoricamente idonei alla nidificazione della caretta caretta, specie di tartaruga più diffusa nel mar Mediterraneo per l'individuazione di tracce lasciate dall'animale per andare a deporre. Una volta individuate le uova, l'area deve essere recintata, segnalata e monitorata fino alla schiusa. I comuni in cui saranno effettuati i monitoraggi sono Ascea, Camerota, Casalvelino e Pallinuro di Centola. Negli altri comuni litoranei saranno presenti altre associazioni. Tutte le attività sono coordinate dai biologi della stazione Anton Dorn di Portici in provincia di Napoli. L'attività è aperta a tutti, basta soltanto tanta buona volontà e amare le passeggiate in riva al mare.